di franz kafka il processo voce di lorenzo pieri capitolo settimo parte terza oltre a varia corrispondenza gli uscieri recarono due biglietti da visita persone che già da un po aspettavano k erano cospicui clienti della banca che a rigore egli non avrebbe dovuto fare aspettare in nessun caso ma perché venivano così a sproposito e perché pareva che essi si domandassero fuori dalla porta chiusa un uomo diligente come k sprecava per questioni personali le migliori ore d'ufficio stanco di quanto era avvenuto e stanco di ciò che sarebbe seguito k si alzò per ricevere il primo era un ometto vivace un industriale che k già conosceva si scusò per avere disturbato k nelle sue importanti occupazioni e k a sua volta si scusò di averlo fatto aspettare tanto ma espresse questo rincrescimento con intonazione quasi falsa e così macchinalmente che l'industriale se non fosse stato tutto compreso del suo affare se ne sarebbe dovuto accorgere trasse invece da tutte le tasche fatture e specchietti li sciorinò in fretta davanti a k commentò alcune voci corresse un piccolo errore di calcolo che gli aveva dato nell'occhio persino a quella rapida scorsa ricordò a k un affare simile concluso con lui circa un anno prima comunicò di sfuggita che questa volta un'altra banca con gravissimi sacrifici aspirava a quell'affare e tacque infine per sentire l'opinione di k questi da principio aveva seguito bene il discorso dell'industriale l'idea del grosso affare aveva poi afferrato anche lui ma purtroppo non a lungo ben presto aveva smesso di ascoltare poi aveva provato per un po con cenni del capo le parole pronunciate dall'industriale con voce più forte infine aveva tralasciato anche questo limitandosi a guardare quella testa calva china sulle carte e a chiedersi quando mai l'industriale avrebbe capito che tutto il suo discorso era inutile allorché cessò di parlare k sulle prime credette davvero che lo facesse per offrire a lui il modo di confessare che non era capace di ascoltarlo ma con suo rammarico lesse nello sguardo teso dell'industriale evidentemente in attesa delle risposte che la discussione dell'affare doveva proseguire abbassò quindi la fronte come davanti a un ordine e si mise a passare lentamente la matita di qua e di là sui documenti fermandosi ogni tanto con lo sguardo fisso su una cifra l'industriale si aspettava obiezioni forse le cifre non erano precise forse non erano decisive comunque egli coprì le carte con una mano e andando quasi addosso a k ricominciò da capo a esporre le linee generali dell'affare è difficile osservò k arricciando le labbra e siccome le carte l'unica cosa tangibile erano coperte si abbandonò sul bracciolo della sedia alzò persino leggermente gli occhi quando la porta della direzione si aprì e sulla soglia comparve non proprio distinto ma come dietro a un velo di garza il vice direttore k non stette a riflettere ma osservò soltanto l'effetto immediato che per lui fu molto gradevole infatti l'industriale balzò subito dalla sedia e corse incontro al vice direttore mentre k avrebbe voluto mettergli le ali ai piedi temendo che il vice direttore potesse ritirarsi e scomparire timore fuori di luogo perché quei due si incontrarono si strinsero la mano e insieme si avvicinarono alla scrivania di k l'industriale si lamentò che l'affare avesse incontrato così poco la simpatia del procuratore e indicò k il quale sotto lo sguardo del vice direttore chinò di nuovo la testa sulle carte quando quei due si appoggiarono alla scrivania e l'industriale si accinse a portare il vice direttore dalla sua k ebbe l'impressione che sopra la sua testa due uomini dei quali la sua fantasia esagerava la statura stessero mercanteggiando la sua persona alzando gli occhi ad agio e con cautela cercò di rendersi conto di quanto avveniva là sopra prese senza guardarlo uno dei fogli dalla scrivania e tenendolo sulla palma della mano lo alzò piano piano levandosi in piedi anche lui verso i due uomini intanto non pensava a niente di preciso agiva soltanto con l'idea che così avrebbe dovuto fare un giorno quando avesse compilato la grande comparsa che doveva scagionarlo il vice direttore che dedicava al colloquio tutta la sua attenzione guardò il foglio soltanto di sfuggita non lesse affatto lo scritto perché ciò che il procuratore considerava importante non lo era affatto per lui tolse il foglio dalla mano di k dicendo grazie so già tutto e lo ripose tranquillamente sulla scrivania k lo guardò bieco e amareggiato il vice direttore invece non se ne accorse o se se ne accorse acquistò ancora maggiore valdanza rise forte più volte con una risposta azzeccata mise perfino l'industriale in evidente imbarazzo dal quale però lo tolse subito facendo a se stesso un'obiezione e infine lo invitò a passare nel proprio ufficio dove potevano portare a termine la questione è una cosa molto importante disse all'industriale me ne rendo conto perfettamente e il procuratore persino a queste parole si rivolgeva all'industriale sarà certamente lieto se gli togliamo questo peso la questione va ponderata con calma oggi però pare che sia sovraccarico e poi c'è gente in anticamera che aspetta da ore k ebbe ancora sufficiente presenza di spirito da staccare lo sguardo dal vice direttore e rivolgere soltanto all'industriale il suo sorriso cortese ma imbambolato non intervenne in alcun altro modo un pochino in avanti si appoggiò con ambo le mani alla scrivania come un commesso dietro al banco e stette a guardare quei due che continuando a discorrere raccoglievano le carte e scomparivano negli uffici della direzione sulla soglia l'industriale si voltò per dire che non prendeva ancora commiato ma sarebbe venuto a riferire al procuratore intorno all'esito della conversazione e poi doveva anche fargli una breve comunicazione finalmente k fu solo non pensò affatto a fare passare altri clienti e solo vagamente si rese conto di quanto fosse piacevole che quella gente là fuori lo immaginasse impegnato a discutere ancora con l'industriale e perciò nella necessità di non fare entrare nessuno nemmeno gli uscieri andò alla finestra si sedette sul parapetto tenendosi con una mano alla maniglia e guardò fuori nella piazza la neve continuava a cadere ancora non si era rischiarato rimase così a lungo senza sapere che cosa lo mettesse in tanta apprensione e solo di quando in quando guardava un po inquieto al di sopra della spalla verso l'anticamera dove per sbaglio gli era parso di udire un rumore ma non vedendo entrare nessuno si calmò andò a lavarsi con acqua fredda e con la testa più libera ritornò al suo posto davanti alla finestra la decisione di prendere in mano le redini della sua difesa gli apparve più grave di quanto non avesse supposto da principio finché la difesa era accollata al legale egli era stato poco colpito dal processo era tanto lontano che quasi non poteva esserne raggiunto direttamente in qualunque momento aveva potuto controllare a che punto fosse ma poteva anche tirarsi indietro in qualunque momento adesso invece se si assumeva il compito di dirigere la propria difesa doveva almeno per ora mettersi interamente a disposizione del tribunale al fine di ottenere per più tardi la sua liberazione completa e definitiva ma per raggiungerla doveva intanto correre un rischio molto maggiore di quelli che aveva corso fino ad ora se avesse voluto dubitarne l'incontro col vice direttore con l'industriale era sufficiente per convincerlo del contrario come se n'era stato là seduto tutto stordito dalla sola decisione di difendersi da sé che cosa sarebbe avvenuto in seguito quali giornate lo aspettavano avrebbe trovato la via che attraverso tutto portava a buon fine una difesa accurata tutto il resto era assurdo non implicava forse la necessità di ritirarsi possibilmente da tutto il resto avrebbe superato felicemente ogni cosa poteva riuscire a farlo rimanendo nella banca infatti non si trattava soltanto della comparsa per la quale sarebbe stato forse sufficiente un periodo di permesso benché una richiesta di permesso proprio allora rappresentasse un grosso rischio ma si trattava di tutto un processo del quale non si vedeva la fine quale ostacolo era venuto improvvisamente a intralciare la sua carriera e così doveva lavorare ora per la banca e fece scorrere lo sguardo sulla scrivania doveva far passare i clienti e discutere con loro mentre il processo si svolgeva mentre lassù nella soffitta gli impiegati ne stavano studiando i documenti doveva provvedere agli affari della banca non era come una tortura che riconosciuta dal tribunale lo accompagnasse collegata col processo e nel valutare il suo rendimento la banca avrebbe forse tenuto conto delle sue condizioni particolari no mai più il suo processo infatti non era del tutto ignorato anche se non era ancora palese chi ne fosse informato e fino a qual punto c'era da sperare che la voce non fosse ancora arrivata fino al vice direttore altrimenti si sarebbe già dovuto notare che ne approfittava i danni di k senza spirito di umanità e di colleganza e il direttore certo voleva bene a k e probabilmente se avesse saputo del processo avrebbe cercato di procurargli per quanto stava in lui non poche facilitazioni ma non l'avrebbe spuntata perché ora essendosi alleggerito il contrappeso costituito da k fino a quel momento era sempre più soggetto all'influsso del vice direttore il quale oltre a ciò sfruttava le cattive condizioni di salute del direttore per rafforzare il proprio potere che cosa dunque poteva sperare k forse proprio queste considerazioni fiaccavano la sua forza di resistenza ma d'altra parte era anche necessario non ingannare se stesso e vedere invece chiaramente ogni cosa per quanto fosse possibile